Grazie signor Presidente, noi riteniamo che sia piuttosto grave quello che è successo venerdì in cui si sono verificati scontri di piazza violenti conferiti tra gli studenti e la polizia, soprattutto perché le testimonianze e anche i video che sono stati mostrati in rete mostrano una gestione dell'ordine pubblico che ha lasciato molto a desiderare. Si vedono ragazzini di 15-16 anni inseguiti e presi a manganellate un po' a caso dalle forze di polizia e questa roba ha provocato moltissima indignazione nei genitori, in tantissime famiglie torinesi che hanno chiesto spiegazioni su come mai si possa arrivare di fronte a una manifestazione di ragazzini a reagire in quel modo. Quindi avremmo avuto piacere che il sindaco ci spiegasse in qualità di supremo tutore anche della sicurezza cittadina, ci spiegasse come è stato gestito l'ordine pubblico e se era veramente necessario rispondere in quel modo a quello che sembrava semplicemente onestamente un normale corteo con non più che forse qualche lancio di uova ma certamente nessuna vera minaccia per la sicurezza della città. Grazie.